Tutto pronto all'Idroscalo per i campionati italiani di canoa e paracanoa, una tre giorni di gare che richiama più di mille atleti da tutta Italia. Idroscalo si conferma così come il luogo ideale per ospitare competizioni agonistiche, come spiega il presidente della provincia, Uido Podestà. È veramente un campo gara straordinario per molte discipline. Il lavoro che è stato fatto in questi cinque anni ci ha consentito di recuperare questa struttura unica, straordinaria di verde, di azzurro, di ambiente, di attività sportive, di relax, di cultura, di arte. E naturalmente la natura prima dell'Idroscalo è proprio anche quella di incentivare quella che è l'attività motoria, sportiva, in tutte le sue realtà. Gli aspetti agonistici naturalmente poi sono l'elemento trainante. Pensate che in questi cinque anni abbiamo fatto svolgere più di 100 manifestazioni a tutti i livelli, se non sbaglio 8 a livello internazionale, 12 a livello nazionale, nelle diverse discipline e ci stiamo proiettando verso il 2015 quando l'Idroscalo ospiterà due campionati. Il campionato si svolgerà regolarmente grazie al lavoro compiuto dalla direzione Idroscalo per la pulizia dalle piante acquatiche che nel mese scorso sono cresciute nel bacino, come ha ricordato l'assessore Marilena Ganci. Si riparte a settembre con un grande campionato italiano? Sì, si riparte con questo grande campionato che mi dà anche l'occasione di poter ricordare che per quanto riguarda l'Idroscalo, il fatto che ci siano state queste piante acquatiche che hanno creato qualche problema, qualche difficoltà, però i nostri collaboratori che sono stati preziosissimi, disponibili subito, senza guardare ferie, non ferie, orari, eccetera, hanno collaborato per rendere possibile questa gara e non solo hanno potuto ripulire la zona che riguarda la gara, ma è quasi completamente ripulito tutto l'Idroscalo, tutto il bacino. Sì, l'Idroscalo è sempre più richiesto dalle federazioni come campo gara. Le gare serviranno agli azzurri anche come test in vista dei mondiali di agosto 2015, sempre all'Idroscalo, validi per la qualificazione alle Olimpiadi 2016. È un appuntamento molto importante perché questi campionati saranno anche la selezione per i futuri campionati del mondo di canoa che io ricordo si terranno l'anno prossimo sempre all'Idroscalo, l'anno di Expo. Noi abbiamo lavorato moltissimo in questi cinque anni proprio per il rilancio del parco, non solo per un parco adatto alle famiglie, ai bambini e ai giovani, ma soprattutto un parco sportivo e che possa ospitare altissimi, importanti appuntamenti di livello internazionale. Come vi dicevo, l'anno prossimo l'appuntamento fondamentale saranno i campionati del mondo di canoa a cui seguiranno quelli di scinautico o ancora una volta un'eccellenza italiana che l'anno prossimo sarà ancora più importante. Siamo sempre orgogliosi di essere all'Idroscalo per questa tappa di conclusione della stagione della velocità con i campionati assoluti Under 23 e Juniores. Ci sono oltre 90 società e 1.200-1.300 atleti in gara. Sarà uno spettacolo straordinario, uno spettacolo che si ripete sulle acque dell'Idroscalo, su questa splendida struttura gestita dalla provincia di Milano che, tra virgolette, nonostante il periodo, ci assicura l'assistenza e il sostegno e il supporto necessario per presentarci con il vestito buono a questi appuntamenti importanti.